Ci sono due amici che vanno a fare la settimana bianca, dice che c'è una camera con due letti singoli, dice guardi una camera c'è ma c'è solo un matrimoniale, si dormiranno in matrimoniale, si addormentano, a un certo punto uno si sveglia, ma che li fa a quell'altro? Dice ma cosa fai? E mi masturbo, ma che è mio? Ecco perché non sentivo nulla.